Il TIS del capoluogo Alto Tesino rappresenta una delle eccellenze a livello provinciale quando si parla di ricerca e innovazione. Non è stato scelto a caso proprio dall'assessorato all'innovazione della provincia di Bolzano come sede del convegno a respiro internazionale dedicato ai cosiddetti appalti pre-commerciali. Il concetto è semplice, la pubblica amministrazione sfruttando al meglio la sua domanda di beni e servizi può sostenere la sempre più importante innovazione scegliendo prodotti non ancora presenti sul mercato ma in via di sviluppo per il loro forte potenziale innovativo. In un momento nel quale si parla di revisione della spesa è assolutamente importante trovare anche nuovi modi per promuovere l'innovazione senza far spendere investimenti all'ente pubblico. Come si fa? Con questo convegno presentiamo una novità e cioè invece che dare incentivi alle aziende per sviluppare progetti noi acquistiamo idee di progetti che debbano ancora essere realizzati. In questo modo stimoliamo la ricerca all'interno delle aziende e facciamo in modo che la concorrenza venga fatta non solo sulla base del prezzo ma soprattutto sulla capacità di produrre progetti innovativi. È una rivoluzione in modo da poter avere maggiore ricerca, maggiore sviluppo e minore spesa da parte dell'ente pubblico. In Italia la provincia di Bolzano con la sua ripartizione all'innovazione ha realizzato uno dei primi progetti pilota. I riconoscimenti non sono mancati sia a livello nazionale sia a continentale. Direi che attraverso questo sistema, questo metodo innovativo che viene chiamato a livello europeo pre-commercial procurement, l'obiettivo è quello di mobilitare le risorse destinate solo al settore pubblico per metterle in contatto e in cooperazione con la ricerca delle imprese private. Quindi cercando di fare sinergia e di aumentare il volume complessivo della ricerca fatta sul nostro territorio. A testimoniare l'alto livello del convegno organizzato a Bolzano la presenza al TIS del ministro olandese all'innovazione. Nei Paesi Bassi gli appalti pre-commerciali hanno portato ottimi risultati già nel breve periodo. Gli appalti pre-commerciali sono procedure per acquisire risorse e servizi nella pubblica amministrazione. In Olanda vengono utilizzate nell'ambito sanitario ed in quello del controllo del traffico. I vantaggi sono evidenti, prima di tutto il fatto che molto sia basato sulla domanda. Inoltre, utilizzando questo strumento, la pubblica amministrazione può trarre il massimo vantaggio dall'innovazione. È la Commissione europea, su impulso del Parlamento europeo, ad aver varato il progetto Europa 2020, sottolineando il compito della pubblica amministrazione nel sostegno all'innovazione. Le piccole realtà territoriali possono giocare un ruolo di primo piano. Anche le regioni di modeste dimensioni possono trarre benefici concreti dagli appalti pre-commerciali. Lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro sono alcuni degli obiettivi. È stata l'Unione europea a chiedere il sostegno di questo nuovo strumento in molti paesi è già realtà. I punti da tenere in considerazione sono libera concorrenza, innovazione, utilizzo delle migliori tecniche a livello internazionale. Durante il convegno è stato sottolineato come la provincia di Bolzano sia in prima fila nei progetti di supporto a tutto quello che è innovazione e sviluppo, sia se si parla di contributi, sia se si parla di iniziative e progetti attraverso l'ente pubblico.